Sembrava, e come poteva essere, in tutto quello spazio svolazzante una farfalla o uno scarabeo dell'estate. Una cosa lì, un'inezia, cosa poteva essere, mentre la guardavo senza capire che intanto era cambiata la posizione, la circostanza, ma qualcosa staccato da terra come un annuncio del tempo stava dove non abita niente, non le piante, le erbe, né la farfalla fragile. Inutilmente, ma in tanta vastità, nel conforto del mezzo pressurizzato, capì che non poteva essere che mi avesse seguito fin là.